Vai, vai indietro, stai con la schiena lì appoggiata lì Allora, prima avevamo fatto tutto questo, sono andato un po' avanti perché si è stoppato il video perché erano finiti i 30 minuti intanto ho fatto questo e ci ho messo la lingua Ma lo vedono di là? Non è che non lo vedono? Sì, li voglio far vedere bene, scusa Mi piacerebbe se io non te lo volessi far vedere bene te lo faccio vedere solo da lontano Oh capero! Oh capero! Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui Questo passo sarà molto lungo Molto, molto, molto Nelco di voto LUCRO Oh, che non lo scrive Guarda Ah, ho visto Giusto attaccato Ma la cosa Stavo a fare Stavo a fare Gnone, gnone, gnone Gnone, gnone Banti E piri Allora Ho visto poi L'occhio di catenaccio L'occhio di catenaccio Che ti guarda Ma c'è solo un occhio catenaccio No, c'è un altro occhio No, c'è solo un occhio catenaccio Uno di questi Per i pedali Che li chiamo pedali Leggo io Pedali, pedali, pedalo, pedali Pedali, pedalo, pedalo, pedali Ecco i pedali Uno C'è solo un occhio catenaccio Ma c'è solo un occhio catenaccio Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti.